La Porsche di Mauro Lombardo e Ernesto Rizzo L'equipaggio dell'Auro Resig, una Porsche di quarto raggruppamento Una vettura che ha dato tanto alla storia dell'automobilismo e continua a dare Sebbene nella configurazione autostorica e pneumatici da pioggia montati dagli equipaggi Arriva questa Porsche preparata dalla Tiguagliardo Tabella di marcia nelle mani di Ernesto Rizzo E Mauro Lombardo e Ernesto Rizzo prendono il via alla volta delle sette prove speciali Che compongono il rally di Natalator Che compongono il raffa Che compongono il raffa Che compongono il raffa Grazie a tutti.